bentornati a patchwork ciao da valentina ed oggi proveremo a realizzare un angioletto natalizio abbiamo bisogno di un cerchio grande di cartoncino bianco per il corpo del nostro angioletto e un cerchio più piccolo di gomma crepla magari per realizzare le ali cominciamo prima di ogni cosa piegheremo il nostro cerchio per il corpo dell'angioletto in questo modo chiudiamo il nostro mezzo cerchio per creare il corpo dell'angelo stesso procedimento per creare le ali dividiamo il cerchio di gomma crepla a metà ed otterremo così le ali del nostro angelo tagliamo le estremità del corpo del nostro angelo per far entrare la testa incolliamo le ali andremo ad abbellire il nostro angelo con un nastrino attorno al collo andremo a creare l'aureola del nostro angioletto con uno scovolino colorato come questo ed infine le ali del nostro angelo prendiamo del nastrino e faremo un fiocco questo è il nostro angioletto è stato semplicissimo farlo vi aspetto alla prossima puntata di patchwork ciao ciao